Salve a tutti ragazzi, qui siamo con un gameplay di Trial Fusion, questa è solo una demo e siamo con il tracciato numero 1, che è la partita di allenamento questa è una notificazione di check point, puoi esclare retry, per tornare alla notificazione di check point sempre, puoi esclare retry, per tornare all'interno dilishazione niente grazie bene la portata è una scena importante, portata di arrivi e poi, aiuta a mantenere il balance grazie a tutti, per completare la nuova scenazione di corso il primo trenzorio qui adesso vedremo i miei amici i fantasmi dei miei amici che come vedete qui ci sono i nomi aah 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 e ora facciamo il dry derby nel fondo E siamo La campagna di Watch Dogs Che usare un set mangio La farà Il mio amico E speriamo di mettere i movie due Corri dei panni E lo hanno inutile a sempre Penso che ho fatto Seppure Non ce n'è E si Grazie a tutti. 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 Noi di gamma totale prenderemo anche il season pass. Grazie a tutti. Vai. Bye. Abbiamo finito. Io credo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.